I colori napoletani della Bivans, sia le Ilarie che questo ennesimo Varenne, veramente da far sognare. Anziani sul miglio, in dieci, otto in prima e due in seconda, Pacific Model, Paola del Ronco, Norris Griff, ma anche Phantom, bene fortunato ma sfortunato possiamo dire nell'ultima, i più gettonati. Oxford arretrato, imitato da Neanderjet, galoppa il tre, Paola del Ronco, cosa molto difficile, vola al comando, Oriana blu come da copione, Patole cerca di rientrare, ma va lì che affrontano la piegata con Pacific che punta in avanti. 13,3 sarà un classico freeway, poiché non tanto Pacifico si presenta il model del buon trinchillo e si presenta su Oriana blu. I 400 se ne vanno in 29,2 freeway con un po' di spesa e il Pacifico diventa nuovamente Pacifico e assume il comando. Lunga fila indiana, si va dopo 600, Pacific li può passare in 43,6, si viaggia in lontano a 1,13. Pacific, Oriana blu, Patole, Paolo M, rigorosa fila indiana anche al mezzo miglio iniziale, in 59,3,15,7 di respiro impiegata. Nulla muta, nulla cambia, almeno per il momento, Paolo M si affaccia, ci va a timbrare il chilometro, in 1,13.6 e Paolo si migliora, poi viene via anche Negrotto e Phantom, per il momento Pacifica al comando, allunga e si distende alla grande il Pacific, 3,17,1,27,3 in tre quarti di miglio, allunga e disinvolte Pacifica, lo sostiene alla grande trinchillo, cerca la fuga, un po' a palo lontano ma in netto vantaggio, Pacifica, Paolo si ingamba a Phantom, viene via Oxford Street, e mentre Pacifica chiude, Paolo M è secondo, e Oxford Street è terzo, 1,56, in edizione straordinaria, l'ottimo trinchillo, lo presenta, lo guida, senza sbabature, questo Pacifica, non tanto Pacifica, dobbiamo dirlo veramente, Mattio Orlando in cabina di regia, ma in salchi c'è lui, il giovane trinchillo, alla grande Paolo M che porta a casa una seconda moneta, strabiliante la retta d'arrivo di Oxford Street, con manine dolci, 1,12 e mezzo, 3,27 euro, i numeri di questi.